Siamo arrivati a Campagnano di Roma, siamo sempre più vicino alla capitale, domani sicuramente ci arriviamo. A 30 km? Siamo a 30 km come ci stanno suggerendo dal primo obiettivo importante. Giornata, nonostante non si pensava, comunque impegnativa a livello concentrazione, tantissimo sterrato e con variazione di terreno in continuo. Questo però ve lo può raccontare Luca perché, come ci siamo detti già dall'inizio, è tutto nuovo. Molta tecnica, molta spinta, molte salite, molte frenate un pochino al limite per me. Sono bello, mi sono divertito, stanco, ma molto 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 divertito. Domani arriviamo al Vaticano e concludiamo la prima parte del viaggio con la chiusura della Bia Francigena. Per cui domani mattina magari vi facciamo un bel video da Piazza del Vaticano. Buona serata a tutti, come sempre, ciao! Ciao ciao! 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 Ciao!